Visite cardiologiche del respiro ed ortopediche. Punta tutto sulla prevenzione, l'associazione Lorenzo nel cuore, progetto intitolato a Lorenzo, avvocato morto per un aneurisma alla orta all'età di 43 anni. Sì, sono assolutamente d'accordo. È il miglior modo per ricordare Lorenzo da parte di tutti i familiari, perché da questa tragedia abbiamo cercato di far nascere questa iniziativa per aiutare gli altri e soprattutto per fare prevenzione. Lo studio medico messo a disposizione dal comune si trova nel cuore di Atria all'interno del Palazzo Illuminati. Diversi professionisti volontari, medici e infermieri, che hanno deciso di mettersi a disposizione dell'associazione, ma soprattutto della collettività. Ci tengo a precisare che tutti ci stanno aiutando e dando il loro contributo gratuitamente, quindi senza di loro non ce l'avremmo fatta e soprattutto anche grazie all'aiuto del comune che ci ospita in questa bella location. Le visite cardiologiche sono rivolte in primis ai cittadini atriani, mentre quelle ortopediche e respiratorie sono rivolte a tutti. Sì, questo è un servizio sicuramente complementare che all'ospedale con cui cerchiamo anche di collaborare abbiamo instaurato anche un rapporto. Fondamentale però, ripeto, è la prevenzione, perché Lorenzo attraverso degli screening di prevenzione si sarebbe potuto salvare ed è quello che cerchiamo di fare qui. È fondamentale però mantenere l'associazione in vita più a lungo possibile, anche grazie al 5x1000. Sì, a proposito di vita, viva la vita, perché noi cerchiamo proprio di promuovere la vita e la salute. Il 5x1000 per noi è fondamentale perché abbiamo spese vive di gestione, anche se siamo tutti volontari, però abbiamo acquistato gli apparecchi cardiologici che costano e abbiamo le spese di gestione da portare avanti. Quindi ci potete aiutare veramente col cuore, visto che parliamo di Lorenzo nel cuore, con il vostro 5x1000, con la dichiarazione dei redditi. Ricordo il codice fiscale per fare il versamento del 5x1000, che è 900-2017-0677.